Tecnozoo. Voglio il meglio. Abbiamo conosciuto Milk Bar alcuni mesi fa, siamo subito state incuriosite dall'innovazione di questo prodotto e l'abbiamo provato. La prima cosa che abbiamo notato nei vitelli è sicuramente una maggiore sanità nei vitelli stessi, in quanto DR e problemi legati alla digestione del latte non si sono più verificati comunque in un livello minore rispetto a prima. Prima di usare Milk Bar avevo problemi di diarrea soprattutto dal passaggio dal biberona al secchio plastico. Quando l'utilizzo di Milk Bar questo problema è stato quasi completamente risolto, in quanto il vitello continua lungo tutto il periodo fino ad arrivare allo svezzamento con l'uso di questa pettarella e quindi i problemi di digestione sono andati quasi scomparendo. Al prossimo episodio